Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da vostro DRAVE, com'è? Sei qui Mirko e Tomi, salutate. Oggi sei abituato a parlare prima? Si, ad anticipare i conti. Si, ad anticipare, sei abituato. Ciao ragazzi! Cosa prendiamo? Mi dia che faccio io? No, il bendiccio. Che c'ho da sfoggiare una nuova difesa attiva, non è capito. Perché Gage non fincava una mani? Ci prendiamo il punto, io dico così. La gufata... Sto zitto, sto zitto, sto zitto, sto zitto. Good, gigi! Tu giochi sempre 5 contro 4? Si, è sempre così. Sto laggando, sicuramente è crash. Mi torno dentro. Perché c'ho il Gage qui che sta sparando come niente. Sono un po' il libro del gruppo. Uaah! Preso il Thermite. Devi vedere una bella difesa attiva, Raffa? Maledetto, mi ha preso! C'è! Con l'Hash! Con l'Hash! Con l'Hash! Con l'Hash! Sono crashato, sì. Ok, non rischiate, raga. C'è uno sulla porta principale a sinistra. Il pitch sta uscendo a destra, guarda. Preso! Non riesco a vedere l'altra parte. Uuuh! Mamma mia! Ballo, ballo. Raffa, hai fatto come non ci fosse un domani. Tieni quella diagonale, ce l'hai sempre lì in fondo a destra, Raffa. Lo sento, Raffa. Questa la fanno. Ok, ce l'hai, ce l'hai! Dentro, dentro, dentro! Ah, finchè non planta non è un problema. Oh, buona, buona, ci ha pensato lui. Ma finchè non planta tanto lo sento plantare. In quel caso lo puscio via, non impongo il problema. È inutile che gli vada addosso e rischi di moline. Buona però, hai tenuto bene le cam. GG. Tommy... non ho capito. Ehm... Mi ha crashato. Ma c'è nel party? No. No, ha crashato anche l'altro. Attimo, attimo. Mi chiamo di nuovo al gruppo. Tadun. Vediamo dove sono. Sono sopra, sono sopra. Sopra, ultimo piano? Ho ragione, è più sensato. Vediamo dove sono di nuovo... C'è, ah, c'è solo Jäger. Ah, c'è solo... no, adesso c'è anche Bandit. C'è solo Jäger? Ehm... aspetta un attimo. È un problema, qua. Fermo un attimo, fermo un attimo! Ma non è che c'era solo lo Jäger dentro là? C'è... c'è il Bandit c'è dentro. Guarda, lo mi ha fatto il giro da dietro. Non me ne sono reso conto. Ma la bomba perché lì? Cioè, perché... Io non so perché. Io l'ho mollata al coso, all'inizio. Pensavo che l'avesse il Thermite. Questo è un problema, l'avranno già piazzato. Ehm... Ehm... Ce l'ho chiuso. Oh, ben tornato. Servo a tutti ragazzi, arrivano i rinforzi. No, vabbè. Ehm... Dai! L'ho ferito! Twitch atterra con me! Twitch atterra con me! Gatto! Sono venuti a prendere me e te! Sono venuti a prendere Rafa! Dai! Ma non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo! Non ci credo. No, no. Ma dovevi fare i Twitch e non si riesca a fare qualcosa, perché... Ho partito bene, poi si sono lasciati andare, proprio così. Dai, raga! Su! Forza, forza, forza! Saranno giù adesso, eh! Tommy, perché hai bisogno di scattare tu, però? Non so. Valkyrie è andato. Perchè! Cerchiamo di andare a fare le robe... Eh! Mi hanno fatto il drone! Maledizione! Buona! Regà, mi dronate? Mando un drone. Eh, appunto, copri! Che cosa sto tenendo qui questa cacchio di cosa? Porca miseria, non posso andarmi a prendere il design? Non ci sarebbe nessuno qui, Rafa! Aspetta! No! Dove, dove? Dal muro! Ma come fa a individuarmi se il black eye l'ho distrutto? Dov'era Tommy? Dove sei? Lì, esatto A destra, tutto a destra Cioè vabbè non muore Ma raga questa cacchio di bomba Ma la recuperiamo, andiamo a piazzare Questa c'è il BB Bella, buona, buona Maledizione, bella Mirko Orca miseria, orca miseria Buona, buona, buona Dai, 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 dai Mamma mia, devo essere un attimino più veloci Raga mia, sappiamo giocare, forza Bagno Eh, vabbè, dai Io proverei a pushare ma Oh che ora fa Ce n'è anche uno fuori Buono, buono night over Io non ho capito da dove hanno piazzato Cioè hanno piazzato nella bomba B sicuro però Nooo, c'era la Claymore Capitava appeso alla finestra Centrale Finestra centrale capitava appeso Eh no È un casino Eh no, mi sono anche bloccato nella porta Vada Ma siamo fatti fare come Boh, non sono stati bravi loro Ma cioè noi veramente Non è possibile che non riusciamo Maledizione A chiudere una difesa sensata Non che una Ovviamente sarà un nuovo giù Yes Ho detto una Claymore fuori dalla finestra In modo tale che non ci possano pushare da fuori C'è le elettrificate di Bandit Mamma, cosa c'è salvata Le elettrificate di Bandit Allora, uno che va da dove ci sono i mobili Bella Ce l'ho pensato tranquillamente Anzi, vi dirò Piazza qua Occhialare Non è un drone Ok, dietro l'altra parete Dietro l'altra parete Dietro l'altra parete Vi scena la macchina bianca Raga, non posso neanche provare Ad andare a piazzare io Drone Ma la spaccate No, è elettrificata Ti piace a farmi spaccare questa? Eh, se il toucher Non c'ha sempre Ma dove sta tirando le granate? Scusami Sì, è Spacchetto Ok, perfetto Perfetto Posto? Vai, piazzami questa Grande, Raffa Grande Good Questa mi piace Guardati questa attestazione Se mi copre il toucher sul lungo Posso anche piazzare Raga Ora è andato E ho preso Piazzo 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 Tomy ce l'ho Jäger Tomy ce l'ho Jäger Lo so Buono Tomy Ok, fatto Sì, vede così Mamma, guardatemi come sono posizionato Non importa Non importa Lo so, lo so Ce l'ho io in tiro Buona Io che c'ho io in lungo Preso Buona Bella la posizione lì La bomba la sto vendo io La bomba la guardo io Bella con la posizione Mirko Bravo Bomba Preso Buona Bravi ragazzi Bravi In tutto Bravissimi Eh, la posizione lì È la proposta di Edith Mirko da lì da è bastante Niente di più, davvero Prendo smoke stavolta Qua non l'avete già merato L'elettrificato Non è anche Bandit Cioè, gli Jäger e Bandit Non li abbiamo Qua non l'hai elettrificato No, mi c'è, mi c'è Bella Tomy E qua al lato uno Occhio Tomy Mi sa che ne ho uno qua sopra Aspetta un attimo Termite sta piazzando Termite sta piazzando Ha piazzato No Vabbè Non è Era dietro il muro Ma ha steccato BANG Questa me la salvo Questa me la salvo Questa me la salvo È troppo bella Ragazzi, io sono giù all'angolo Sì, c'è un po' Tommy, guardami il black in esterno Sì, sì Sto facendo Cioè, nella pianta Ce n'è uno Non so chi Nella pianta vicino ai bidoni Esteso Devo sta giocando Ha mai dato un drone Preso Non hanno più il termite Non hanno più il termite Ripeto Cacchio no Non devi controllarmelo lì Che c'era anche il twitch Non ho più il caso Vabbè, non importa Non importa Raffa, Raffa, occhio Vai Raffa Vai Raffa Anche io Cavolo, cavolo Maledizione Non c'eravamo più il drone La cosa esterna, Raffa C'erano te Quello che il trovo Maledizione Proviamo sta cosa del blackbird Vediamo se riesce giù una volta Raffa, ovviamente staranno giù Ragazzi, no, sono sopra Ultimo piano Io con il termite Sono inutile Ve lo dico già Tommy mi sfondi Allora, la finestra del drone Occhio, occhio Tommy Tommy Occhio lì in basso a destra In basso a destra Cioè, hanno sfondato una porta Quella sotto del garage E potrebbe farvi spawn kill Da lì un bandit Occhio Perché c'è un black eye fuori E' esterno Questo qui Da nettover non l'ha ancora capito Che c'è un black eye esterno Lo stanno già per fare, guarda No, il bandit è tornato su E' su da voi il bandit Buona C'è anche il rook C'è anche il rook Buona Eh, rook è rook a terra Rook a terra Rook a terra Rook a terra Fallo, fallo Fai anche quello Grazie Dai, grazie Non challengeare Dai Occhio Raffa Occhio Raffa Ti riprontare Raffa Stanno sponchilando Da sotto Occhio Buona, buona Ottimo Ottimo Cavolo Però è stata una nuova partita Noi in questo L'ho detto Avrò perso il grado Classico Classico Ma va bene Ok Quindi ragazzi Mi raccomando Like ti supporto a questo video A questa serie Commentate qui sotto Fatemi sapere cosa mi pensate Noi ci vediamo Col prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti